No, 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 non si fa questa cosa, cattivo, cattivo, sei stato cattivissimo, non si picchiano i villager, come ti permetti Sono brutti Eh, lo so che sono brutti, ma praticamente oggi siamo su Minecraft, ma se spacchiamo qualsiasi tipo di blocco, a parte il diamante, muoriamo malissimo Quindi adesso vi faccio una dimostrazione pratica, se per esempio io prendo il legno, no? E lo scavo, chiaramente io morirò purtroppo, perché giustamente, eh, eh no, che brutto Ma sei morto davanti a me Lo so, lo so, infatti non dovremo mai scavare niente, però quel pezzettino di legno, per favore, prendilo, perché ci serviranno Eh, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Ok, perfetto, allora, abbiamo trovato un villaggio, perché praticamente nei villaggi, ragazzi, è super fondamentale questa cosa E sarà difficilissimo, vediamo se riusciremo a non morire per questo fatto qua, senza scavare oppure no Allora, tu te o... Vado a vedere nelle varie case se c'è qualcosa Ok, ci dividiamo in questo modo, poi mi dici cosa hai trovato, ok, va bene Va benissimo, va benissimo Io ho già trovato due smeraldi, ma porca miseria, questo mi sa che è un villaggio ricchissimo, fighissimo Proprio uno di quelli belli, adesso ho trovato anche le patate, un po' di cose Guarda che però su Minecraft è fondamentale scavare, quindi in questi villaggi possiamo trovare dei materiali Oddio, sì, io l'ho trovato in realtà un bel ponco, già, eh Eh, sì, e poi comunque non ho detto la cosa, l'obiettivo finale, andare a prendere un blocco di diamante Quindi, eh... Ah, ma è impossibile Allora, se ci dobbiamo riuscire, altrimenti abbiamo fallito Ragazzi, scriveteci voi nei commenti ovviamente se ci riusciremo oppure no Secondo voi, fate tipo una sorta di pronostico, una sorta di previsione Secondo voi ci riusciremo oppure non ci riusciremo a fare questa cosa qua, insomma Beh dai, speriamo di sì Sì, speriamo di sì, anche perché comunque io vedo che so proprio parlare bene Oh! No vabbè, c'è stato un villager schifoso, schifoso, non ti permettere, se no ti devo bastonare Hai ragione che i villager vanno... Poverino, tu prima lo stavi uccidendo Allora, mi ha praticamente chiuso la porta in faccia, ma come cazzo ti sei permesso? Cioè io devo parlare con sua nonna, che adesso lo castiga E non ti dico... Ma come? Non ti dico in che modo lo castiga, guarda No dai, poverino Ma hai preso tutte le cose tu? Sì, ho preso in realtà un bel po' di cose Ok, bene, 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 vediamo un attimo Se necessitiamo ancora di altre cose comunque andremo a vedere altri villaggi chiaramente Prima di spiandarci immediatamente in caverna Guarda che anche solo magari, credo, anche solo un blocco d'erba potrebbe ucciderci Io non lo fare, c'è tipo un blocco d'erba C'è anche un po' di cibo Ok, bravo, grazie del cibo Ok, hai già trovato il ferro, ma grande Ok, allora, abbiamo un bel po' di blocchi Ok, però scusami, no, dobbiamo anche trovare della cobblestone Ah, oddio, oddio, ma come facciamo? No, aspetta, 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 aspetta Allora, praticamente io posso fare gli shtick così, giusto? Allora, poi praticamente posso farmi un piccone E già il piccone di ferro ce l'abbiamo Quindi potremmo ipoteticamente andare a scavare il diamante Con il quale, ragazzi, io vi ricordo che non moriamo Però È un po' complicato Perché adesso andare È molto complicato E poi il capitolo lo dobbiamo trovare in caverna Senza scavare Quindi mi sa che dobbiamo andare a trovare una sorta di caverna E sarà difficilissima questa cosa Perché Allora, come facciamo secondo te? Eh, non lo so Adesso dovremmo trovare innanzitutto una caverna Non so parlare Sì, vabbè, ma hai ripetuto la stessa identica cosa che ho detto io Non vale Cioè, nel senso, devi dirmi Ah, non l'avevo sentito Tu, qua in giro Hai trovato una caverna Cioè, vedi una caverna Eh, la cerco La cercare subito Ok, cercala E poi dimmi se la trovi Però non ci allontaniamo troppo da qua, eh Perché sennò poi dopo Oppure se trovi un altro villaggio Esatto, esatto Dimmelo Va bene, va bene Vado a cercare un altro villaggio Ok E nel caso poi dopo ci vediamo Vecchio, hai trovato il villaggio Esatto, sì, sì Ok, bene Quindi possiamo andare a prendere Tutte le altre ceste che ci sono qua E magari forse riusciremo anche ad andare a prendere i diamanti Va bene, le vado a cercare Ok Vado a cercare Ok, va bene, va bene Allora, io vedo che qua c'è un golem E questo golem potremmo ipoteticamente Eh, dico solo ipoteticamente Ucciderlo E poi qua vicino Cos'è che c'è? E questo c'è il ferro, è vero Cos'è che c'è qua vicino? C'è una piramidozza Ora, però, le piramidi Dobbiamo pregare il santo patrono Non so di chi Però, praticamente, le piramidi dovrebbero essere chiuse Quindi non so se riusciamo, capito Eh, speriamo Speriamo che sia rotto Se no non possiamo entrare Allora, praticamente Io mi sono già fatto un secchio d'acqua Vado ad esplorare questa piramide Tu prendi tutto quanto E poi dopo Va bene, va bene Dopo vado a sconfiggere il tizio Ah, ci sono dei blocchi di pieno E grazie al cielo è aperto Mamma mia, per fortuna Allora, quindi Praticamente adesso faccio una fontanella qua E in teoria la pressure plate Si dovrebbe anche rompere E non si rompe Vabbè Però posso romperla io a mano Madonna, ma mi sto rompendo la voce invece Scusami Adesso succede anche a me Eh, ok Allora, ho trovato Praticamente quasi niente Allora, dei blocchi che possono comunque essere utili Altra sabbia Delle ossa Ma niente di che comunque Allora, dei libri Vabbè, però i libri non ce ne facciamo niente Ora, fosse stata una vanilla sarebbe stato utile Ecco una mela d'oro Magari se tipo il golem mi vuole far fuori altri libri Va bene, no È stato completamente inutile Completamente Ma come, dai Non ho trovato Eh, vorrei anche Sai cosa vorrei prendere? Vorrei prendere questo fieno Perché è buonissimo il fieno Possiamo farci i panini Ok Oh, no In realtà io non bel po' Ma E non puoi Non puoi scavare Ma scusami un attimo Io mi sono appena Ah, ma me ne eri dietro Sì Io mi sono appena accorto di una cosa Io ho scavato la pressure plate però C'è un creeper Scusa No, no, no Non hai capito Non mi stai ascoltando Mi devi ascoltare Lo sai Ho detto Io ho scavato la pressure plate Perché Ma la pressure plate Non è un blocco C'è un Potrebbe essere Non so se si può considerare blocco Eh, esatto Potrebbe essere che Lì l'ho potuta spaccare Perché me ne sono reso conto Dopo io avrei Sarei morto praticamente Eh, forse anche gli arboscelli O robe così Eh, sì Sì, in effetti sì Esatto Perché praticamente In questa mod che ho io Si possono rompere solo i blocchi Tipo quando muori Vabbè, non lo so Comunque è un po' complicato Ad ogni modo Ho trovato cose io, eh Non l'ho fatto io la mod Dimmi Ecco qua Il legno Molto buono E della cobblestone Ok Davvero Vabbè anche dei cactus Eh, lalà Ma tantissime cose Ma vabbè Il cactus non me ne serviva niente Però Allora, del legno buono Ok, possiamo farci un bel po' di cose Io sicuramente mi farei Guarda, per sicurezza Mi farei anche una spada Eh, esatto Esatto In pietra però Perché in ferro In ferro abbiamo già il picco In realtà l'ho finito il ferro Però vabbè Non ne serve di più Basta questo piccone in ferro Guarda Che abbiamo già E quindi niente Prendi la cobblestone La cosala E sai cosa faccio adesso? Prendi la carta Cosa? Faccio praticamente Ma non posso Come non puoi? Scava? Scupido ignorante Eh, sai com'è? Se scavo muoio Ah, è vero È vero Ci siamo già scordati Ma porca mi No, veramente Cioè io non ho parole Vale Eh, magari Allora È stracomplicato Perché È un po' troppo Io Se mi fossi messo a scavare Io probabilmente sarei morto No, adesso però devo Attivarlo Eh, te lo attiro Te lo attiro Te lo spingo Aspetta Ok, spingi Spingi Vai Spingi di più Ecco Ok, ok Oddio ho paura Ho paura Muori tu schifoso Che mi serve il ferro Che devo fare il ferro Dammi il ferro Dammi il ferro Tanto ferro Per me Tanto ferro Dammi sto ferro Detto Eh, non vuol morire Quanto è testardo Eh, lo so Ok Oh, mi ha dato pure Due rose Che carino No, che ducato Eh, lo so Adesso mangio Perché è molto buono Vado alla crafting table Così Ti crafta un piccone Di ferro Anzi Oh, va bene Il ferro In realtà me lo serve Eh, esatto Perché abbiamo solo Infatti non mi serve Abbiamo solo questo Di ferro Chissà cosa ci potrebbe servire Però dobbiamo trovare una caverna Quindi vieni Dovemo Tu hai presente Dove potrebbe essercene una Eh, no Non ho esplorato molto Magari qua Guarda, che fortuna Eh, però È tutto buio E come faccio? Ah, come è tutto buio Sì, sì, sì Non, lì nelle ceste Hai cercato bene Non c'è del carbone Eh, no Non ho cercato bene Adesso guardo però Ok, vabbè Rispondimi subito Ma che caspita c'hai? Mannaggia Ma come? Però io ho notato anche una cosa I villager potrebbero vendere Forse qualcosa Ora che ci penso Tipo del carbone O altre cose Perché io ho dello smeraldo, no? Gli smeraldi A loro di solito Piacciano molto Infatti Si leccano sempre gli smeraldi Eh, ovviamente Mi distoso Sì, sì, sì Allora il clerico Vabbè Però mi dà della redstone No, mi serve a niente È schifoso, stupido Io ti detesto Devi, devi Ma poverissimo Io veramente Questi mercanti che non danno niente Ma dai Ma no, anche le carote Non mi servono Cosa ci faccio con la carota? Non, allora Vorrei dire Ma non lo dico Perché No, no, vabbè Allora, però Qua potrei praticamente Andare a cercare altre cose Tipo altri villaggiori Dai, per favore Villaggiori Eh, vieni qua Vieni qua Ho trovato delle torce Non ho trovato il carbone Ma delle torce Bravo, vecchio Rubate Ah, giusto È vero Perché si possono Bravo, bravo Sei stato un genio Bene, bene Adesso possiamo Possiamo andare sotto in caverna Però qua comunque Rimane sempre un fattaccio Questo fattaccio sarebbe che Non abbiamo caverne belle Cioè, secondo me qua Eh, fa un po' schifo Hai ragione E poi guarda No, no, vabbè Sì, sì Potremmo usare le pressure Per passare qua sotto Però comunque Mi sa che là Mi sa che là Non so se va fino in fondo Capito? E quindi Magari adesso Non ne vale la pena Dici? Eh, no Adesso vado a craftare Tipo una Una di quelle trapdoor Così scendo qua Va bene, va bene E magari Vediamo se c'è del diamante Però io me lo auguro Sinceramente Guarda Vecchio pervertito Ciao 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 Perché sei uscito? Dove sei finito? Eh, sono un secondo uscito Perché sono un po' crashato Ma che maleducazione Guarda Oh Questi ragazzi al giorno d'oggi Veramente Che escono Ok Ciao Andiamo Andiamo Allora Praticamente qua ci sono Le Glow Squid Ma non mi sembra Che sia affidabile Questo posto Andiamo invece Da queste parti Circa qui Addentriamoci Nelle caverne Mi sa che io Mi sto perdendo male Perché praticamente Se io vado da questa parte In teoria Dai Vabbè ma è enorme Sto posto Ma infatti è pieno di acqua Ma poi vedi queste caverne Ma come sono state generate Ma sì Ma stranissimo Sì 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 Ma la mod che è buggata Eh può essere Anche perché l'ha fatta un signore Un po' Vabbè Comunque La lascia stare Salutiamo il signore Comunque Ciao Praticamente adesso però Dove potremmo esserci Perché noi stiamo cercando Appunto i diamanti E in teoria qua Si dovrebbero trovare Perché appunto È enorme questa caverna No come ben vedete Ma magari sotto l'acqua Non riusciamo a vederli Questi diamanti Quindi Eh esatto Dovremmo cercarli meglio Molto bene Oh no Aspetta Oh oh Sono qui Sono qui L'ho trovato Oh vieni qui Davvero Sì sì Dove sei Prima di tutto Come ti sei permesso Di trovarli prima di me Eh sono Ho il naso io Ho il fiuto No mi stanno uccidendo Aiuto No dove sei No 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 Aiuto anche io sto morendo No Via 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 Tente esplosioni Sei te Sì sono stato io Sono stato Ma nonno Guarda che è impossibile Cioè Eh ma dove sei Eh sono dietro Sopra di te Allora tranquillo È tranquillo Allora Praticamente mi pare di averli visto Anche io Ti sono tipo qua giusto Ah Vieni qua Vieni qua Però qua c'erano un sacco di creeper Li ho visti con la coda dell'occhio Esatto Sono lì Ok bene 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 Sì sì sono quelli che ho trovato io Sì è pure laggato come una scrofa Però Oddio Allora facciamo Perché è un po' difficile Perché non posso scavare Sennò Muoio Però L'abbiamo fatto eh Teo Guarda che l'abbiamo Cioè no Già L'abbiamo fatto Ci siamo riusciti No Via Ha 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 solo un diamante Ma vabbè che schifo Vabbè però abbiamo vinto Abbiamo vinto Ragazzi noi abbiamo vinto Scrivetemi nei commenti Se secondo voi abbiamo vinto Perché vabbè L'abbiamo trovato i diamanti Quindi secondo noi abbiamo vinto Per forza ovviamente Però scrivetemi voi Fate i gentili per favore Se no Piango Vecchio lo sai che comunque Mi stai proprio antipatico No Aia no Sto scherzando Gli voglio tanto bene Soprattutto dopo che Eh sì sono morto Su minecraft ovviamente Sempre No dai però scherzo Non sono così cattivo Vero Vabbè comunque ragazzi Voi fatemi sapere Se volete vedere Altro di questo In minecraft Ci vediamo al prossimo video Ciao